Un saluto a tutti amici scacchissi, bentornati nel canale di Gambito Club, io sono Marco e siamo qui oggi per commentare il quarto turno del torneo dei candidati 2022 che legge lo sfidante a Carlsen. Che dire, abbiamo un uomo solo al comando ed è ancora lui, Nepo, che sembra abbia proprio la voglia di un po' riscattare la figuraccia che ha fatto nell'ultimo finale mondiale contro lo stesso Magnus Carlsen. Perciò mettiamo la classifica, lui al comando con 3 punti su 4, segue Caruana con una mezza distanza, quindi 2 punti e mezzo, infine abbiamo Duda, Rapport e Nakamura a 2, Fandanini di coda, Ding Liren, Rajab e Firuja a 1 punto e mezzo. Molto bene, andiamoci a vedere la strepitosa vittoria di Nepo su Firuja. Siamo pronti? Partiamo! Perfetto ragazzi, andiamoci a vedere subito la partita, E4-C5, quindi difesa siciliana, molto bello che in questi primi turni del torneo ho visto partite giocate a viso aperto, cioè se le stanno dando di santa ragione, proprio a palate si stanno prendendo e questo è molto emozionante, no? Io spesso ero abituato a vedere partite tra grandi maestri, patte dopo 20 mosse, partite giocate per sentito dire, insomma vedo invece questo torneo molto più animato, vengono giocate delle linee molto aggressive con l'idea proprio di vincere la partita e quindi questo veramente è una cosa molto bella e piacevole che noi spettatori proprio ci rende molto felici. Andiamo a vedere come è andata poi la partita in questione, quindi una siciliana, la variante Neidorf, che perde il nome dalla mossa proprio A6, F3, mossa molto interessante. Innanzitutto dobbiamo dire che non è una linea principalissima e quindi qui diciamo iniziamo a vedere il classico modo di cercare di sorprendere un po' la preparazione avversaria, no? È un tema proprio principale di questo torneo dei candidati, ma un po' in generale di tutti i giocatori di scacchi, no? Cercare di prepararsi una sorpresa. Qui si gioca la mossa E5, cavallo B3, qui è una variante abbastanza teorica in fin dei conti, alfiere in E6, alfiere in E3, diciamo che l'idea base del bianco qual è? È quella di sicuramente occupare le case nere lasciate libere dalla conformazione pedonale in questione, quindi cercare poi di giocare la mossa a donna D2 e andare poi anche, volendo, ad attaccare il pedone in D6 del nero, che risulta comunque un pedone arretrato. Ma non è una cosa molto semplice da fare. Altro piano del bianco molto bello, interessante in questa posizione, è chiaramente l'arrocco lungo e poi spingere i pedoni sul lato di re per attaccare l'arrocco del nero. Lì questo è un piano proprio che mi prendo e te prendo ammazzate. È un piano molto semplice, scolastico. Il nero che cosa fa di solito? Il nero in questo caso chiaramente gioca alfiere in E7 e il piano qual è? Il nero cerca di chiaramente arrocco a corto in questo tipo di posizioni e cerca di spingere i pedoni sul lato di donna. Chiaramente non è solamente questo il piano, ma un altro piano è quello di cercare di eliminare la debolezza arretrata del pedone in D6. Infatti spesso questo pedone in D5 viene spinto proprio perché una debolezza è tale nel momento in cui non si può eliminare, quindi è fissata. Ma qui questa debolezza del pedone arretrato, una volta spinta, potrebbe chiaramente essere eliminata. Quindi questo poi risulta essere un'idea principale del nero. Diciamo che in linea generale teorica il bianco attacca sul lato di re, il nero attacca sul lato di donna. E come dice quello, chi arriva per primo vince. Diciamo che questa è una delle classiche posizioni dove il tema è proprio il seguente, no? Quindi io arrivo per primo sull'arrocco avversario e vinco la partita. Arrivo per primo nel senso che il mio attacco è più incisivo e più rapido. Proseguiamo, quindi si muovono i pezzi di sviluppo, quindi arrocco, arrocco lungo. Ecco qui, quindi, insomma, come abbiamo detto, i due arrocchi contrapposti. Cavallo B in D7 e qui arriva la mossa al G4. Come abbiamo già visto prima, l'idea del bianco è quella di lanciare addosso tutti i pedoni. Anche quelli fuori dalla scacchiera. Se ci stanno, si prendono e si lanciano addosso all'arrocco. L'idea è essenzialmente quella. Molto bene, B5, ovviamente, il nero va a crearsi un controgioco, come abbiamo detto. G5, B4, è proprio la corsa dei pedoni, no? Abbiamo detto, chi arriva per primo vince. Cavallo in E2, cavallo in E8, F4. Perfetto, fino a qui, comunque, siamo quasi in teoria, diciamo, no? Abbastanza teorica questa linea. A5, mossa molto interessante. Vorrei far notare qui, secondo me una questione importante, è la tensione che si è creata dal pedone F4 e il pedone N5. Questa è molto importante, no? Perché un'altra mossa possibile per il nero è proprio cambiarlo questo pedone. La domanda è, secondo voi, a chi dà vantaggio cambiare questo pedone? Ma al nero, teoricamente, non dispiace, perché è vero che viene preso il pedone dall'alfiere, no? E quindi possiamo vedere che c'è un certo pressione sul punto D6. Ma è anche vero che dopo la mossa a cavallo in C5 non è così facile da sfruttare, no? Quindi c'è una sorta di controgioco da parte del nero che può sfruttare sia la casa E5 sia la casa in C5. E, ovviamente, ha eliminato il pedone del bianco che può andare tranquillamente in F5 e poi attaccare con F6 l'arrocco del nero. Cosa che poi è successo in partita. Quindi questo è un momento importante, a mio avviso. Però Firuja ha deciso per lo spettacolo e te vuoi a A5. F5, chiaramente, come dice quello, tu non mangi, io spingo. È normale, insomma. Quindi eccolo qui, adesso ci sono questi due pedoni forti, uniti, che vanno avanti contro il re nemico. Io, sinceramente, mi senterei un po' a disagio con il nero in questa posizione. Nonostante sia una posizione considerata quasi teorica, cioè più o meno paritaria, il bianco ha un gioco più libero, più dinamico, ha spazio sul lato di re per manovrare tutti i suoi pezzi, no? Quindi io preferisco il bianco, poi ognuno sceglie quello che vuole. La mossa a fiere C4 di Firuja, mossa sicuramente interessante questa, no? Va bene. Re B1, qui ragazzi, ovviamente qua il tema della profilassi è importante. Re B1 chiaramente costruisce la casa C1 del cavallo. Casa importantissima perché difende poi il punto in A2, no? A4, questa è una mossa che io sono andato a vedere e possiamo dire tranquillamente che siamo completamente fuori teoria. Cioè qui ragazzi, alla mossa 15, diciamo, stanno giocando fuori teoria nel che significa? Significa che non ci sono partite degne di nota in questa posizione sul database. Quindi si stanno giocando la preparazione, cioè a meno tocca capire chi è preparato e chi meno. Quindi insomma il discorso è molto complesso. Cavallo B1, chiaramente il cavallo si ritira nella fortissima casa C1 dove difende il re. E qui D5. Bella questa mossa D5 secondo me perché chiaramente Ferruccia applica il principio che se il bianco attacca sui lati, in questo caso sul lato di re, la reazione è sempre quella centrale. Quindi molto molto interessante. Nebo da parte sua applica il principio, me ne sbatto fortemente, e quindi gioca la mossa F6. Chiaramente Nebo in questo caso sembra essere arrivato per primo. Cioè nel senso che è il primo che prova a sfondare l'arrocco avversario con una mossa di pedone a contatto dell'arrocco. E quindi diciamo che c'è una certa pressione secondo me, c'è anche un certo vantaggio in questa posizione. Ma non un vantaggio di materiale, un vantaggio psicologico. Nel senso che tutti preferiremmo giocare con il bianco in questa posizione, almeno io. Perché il nero si sembra avere un attacco, ma il bianco ha tutti i pezzi che difendono egregiamente il re. E qui G per F6 sembra una mossa veramente da fare. Insomma, G per F6, cavallo D per F6. Quindi qui Nebo sacrifica un pedone per distruggere l'arrocco avversaria. E, cosa importante, chiaramente ha aperto la colonna G ai pezzi. In questo caso la torre o la regina. Cavallo in G3, mossa anche questa che mi è piaciuta. Chiaramente cambiare gli alfieri in campo chiaro penso sia proprio molto buono per il bianco. Infatti, dopo alfieri per F1, torre per F1, possiamo vedere che comunque questo cavallo ha un'ottima casa a fan posto F5. Mi piazzo là e non mi sbobo manco con tir. Quindi, ci è molto piaciuta questa mossa. A3 e qui mi sembra che l'attacco di Frugia sia un po' forzato in questa situazione. Quindi B3, re in H8, mossa assolutamente obbligatoria perché quel re è molto pericoloso. E qui la mossa è per D5. Come a dire, io prima magno e poi ce pezzo. Tocca a te, vediamo un po' che te inventi. Mi sono sembrate proprio queste parole da parte di Nepo, no? Qui ci sono veramente dei problemi, secondo me. E non si sa come affrontarli da parte del nero. Che, secondo me, cade un po' di psicologia, va un po' sotto pressione e commette degli errori. arrivati a questo punto, no? Infatti, qui viene eseguita la mossa cavallo D6 che non ci è piaciuta molto. E adesso andiamo a vedere il perché. Ma prima vediamo se il nero poteva giocare meglio, no? Probabilmente c'era qualcosa che poteva fare. Essenzialmente no, perché comunque sia il bianco mantiene una certa solidità. Donna C7 era una mossa molto interessante. Però c'è un tatticismo molto bello da analizzare. Cioè, torre per F6, cavallo per F6 o alfiere per F6. E qui c'è la spinta, chiaramente, che fa una forchetta. E poi la porchetta che se la magna e quindi, diciamo, che riprende il materiale, no? Quindi alfiere per F6 sembrava la mossa giusta, cavallo in D3, cavallo D6, cavallo ovviamente bloccatore, alfiere C5. Interessante sarebbe stata questa variante con il sacrificio di qualità, perché è vero che qui il bianco sacrifica la qualità, ma è anche vero che il bianco sta per andarsi a pappare tutti i pedoni sul lato di Donna. E quindi sicuramente possiamo dire che comunque era una mossa, una variante vantaggiosa per Nepo. Torniamo alla partita. Cavallo D6, mossa dubbia, ma ancora si può giocare. E qui, chiaramente, Nepo gioca abbastanza velocemente la mossa Donna per B4. Diciamo che si è sentito un coro dagli spalti che ha detto, i pezzi in presa si magnano. E infatti Nepo l'ha sentito e ha mangiato il pedone in B4. Si è sentito proprio sgrunk dagli spalti, insomma. Torre C8, conseguenza su conseguenza, errore, chiama errore. Questo è un altro errore, perché è una mossa che essenzialmente non ha capito nessuno, neanche il motore, nel senso che è una mossa che non abbiamo capito veramente il motivo. Infatti qui Nepo trova veramente un'idea fortissima che lo porta in netto vantaggio. Alfiere B6, donna D7, donna E1, punto esclamativo. Cioè Alfiere B6 essenzialmente libera la colonna E per attaccare il pedone debole in E5. Perché il pedone E5, che pezzi ha vicino? Vediamo, ha due cavalli, ma due cavalli non difendono il pedone vicino, no? Sarebbe stato meglio un altro pedone o un Alfiere. Essenzialmente è questo il discorso. Quindi qui diciamo che Firucia prova un po' a pescare nel torbido, no? Però la frittata ormai è fatta, ragazzi. Alfiere in A5, cavallo in C4, pedone D6, mossa devastante, decisiva. Questa è una mossa fortissima, ragazzi. Perché il pedone non può essere ripreso? Per esempio, cavallo per D6, eccola qui. Quindi donna per E5. E adesso c'è sempre questo problema dell'inchiodatura del cavallo. Veramente molto fastidioso, no? E su torre B5 c'è sempre la mossa torna 1. Vedete questa risorsa che comunque non porta nulla al nero, no? Però tornavo a vedere la partita, com'è andata. La mossa alfiere D8. Chiaramente alfiere C3 è normale. È meglio riciclare l'alfiere su questa diagonale fortissima, no? Guardate, l'alfiere bianco è veramente molto più forte rispetto al passivo del nero. Donna E6, chiaramente si prova a difendere il pedone a tutti i costi. Se lo sta proprio tenendo stretto coi denti. Ma ogni mossa il bianco sviluppa pezzi e attacca il pedone in E5. E arriva a un certo punto che non si può più difendere questo pedone. Cavallo D5 e qui arriva cavallo F4. Una mossa molto interessante, a mio avviso. Che costringe essenzialmente al nero a cambiare dei pezzi. Cavallo per F4, torre per F4 e la mossa F6. Che cerca, dice, oh, finalmente gliel'ho fatta, ho difeso il pedone in E5. Sì, ma a quale prezzo? Donna E2. Cavallo B2. Ecco, questa è una mossa... Una mossa, boh, nel senso che il cavallo in B2 è il cavallo in fianchetto dell'avversario. Una volta spostata la torre, quel cavallo non fa più nulla essenzialmente. E quindi è quasi un pezzo in meno, no? Torre in E8. Torre H4, mossa molto forte. Chiaramente, guardate la differenza tra i due re. Il re nero è completamente scoperto. È difficile da proteggere. Il bianco non solo ha la struttura pedonale fortissima con un alfiere altrettanto forte che controlla tutte le case, ma c'è stato pure questo bel cavalluccio nero che difende, sembra quasi un pezzo aggiuntivo a difesa del re. E questa è una cosa veramente incredibile. E qui viene fatta una mossa F5, probabilmente un po' scoraggiato Firucia e anche in svantaggio di tempo, aggiungo. Non ha visto questo tatticismo molto bello, tra l'altro. Era possibile giocare una mossa più difensiva come donna a D7? Sì, ma poi arriva il cavallo F5. Dopo aver schiaffato quel cavallo lì, la partita sembra veramente messa comunque male, no? Torre G8, donna H5. C'è proprio un attacco devastante. Guardate, mi piace notare qui la differenza tra i pezzi leggeri, no? Alfiere del bianco contro l'alfiere del nero. Il cavallo del bianco contro il cavallo del nero. Veramente non c'è spartita. Ok, vediamo com'è finita la partita. F5 e qui arriva il tatticismo e quindi lo shock psicologico. Torre per H7, mossa decisiva. Re per H7, donna H5 scacco. Qui è tutto forzato, ragazzi. Reggio 8, cavallo per F5. Essenzialmente viene sacrificata una torre per scoprire ancora di più il re. Adesso non ci sono più i pedoni e quindi si dà scacco matto. Qui c'è proprio un matto imparabile. Fiera F6, torre G1. Qui Ferugia abbandona, ma d'altra parte dopo re F8, donna H6, re F7, torre G7. Fiera per, donna per. C'era matto sulla scacchiera. Ragazzi, che dire? Questa è una partita stupenda, secondo me, da parte di Nepo. Veramente condotta con una lucidità pazzesca. Io sono molto contento di come stanno andando le partite in generale. L'ho già detto, secondo me, se le stanno dando di santa ragione. Quindi noi ci vediamo domani per commentare insieme il quinto turno e la partita più bella. Un saluto da Marco, ci vediamo al prossimo video. Ciao!